Sono 14 le vittime sul lavoro dall'inizio del 2021 in Toscana, 3 dall'inizio del mese di aprile ad oggi. Un bilancio drammatico che ha spinto CGL Cisle Will Toscana a manifestare davanti alla sede della prefettura di Firenze a sostegno della mobilitazione nazionale Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro, per ottenere dal governo Draghi un patto per la salute e la sicurezza che coinvolga tutte le parti in causa. Noi non possiamo pensare che da inizio anno oltre 200 sono i morti sul lavoro, tantissimi gli infortuni, si va a lavorare per vivere e non per morire. Bisogna affermare con forza che la sicurezza è un investimento e non è un costo e quindi chiediamo al governo di sottoscrivere un patto per la sicurezza. Queste morti ormai stanno diventando un record insopportabile e soprattutto un record italiano direi perché tre morti al giorno e non sono qualcosa di più diventa veramente un problema endemico. Non è più un problema accidentale e non è più un problema incidentale. Bisogna andare alle origini e secondo noi finora c'è stato molte parole e pochi fatti. Ma oltre alla sicurezza fisica anche la tutela dell'occupazione perché a rischiare di perdere il posto di lavoro sono oltre 100.000 toscani. Si chiede quindi proroga del blocco dei licenziamenti, riforma degli ammortizzatori sociali e la cancellazione di alcune deroghe al codice degli appalti contenute nel nuovo decreto semplificazioni. Il rischio è quello di migliaia, centinaia di migliaia di posti di lavoro che rischiamo di perdere. Non ce lo possiamo permettere. Noi abbiamo un po' di tempo, dobbiamo pensare anche che ci sono le condizioni per creare la possibilità di dare a chi sta perdendo il lavoro o a chi lo perderà la possibilità di qualificarsi o riqualificarsi. Servono politiche attive, la regione toscana lo può fare come tutte le regioni, come chiediamo a livello nazionale, lo chiediamo alle istituzioni regionali. Sabato scorso abbiamo manifestato davanti alla sede della Polizia Stradale di Siena per denunciare le gravi carenze di organico della Stradale di Siena e di Montepulciano e per altre criticità che affliggono il nostro settore. È nato un confronto da quel giorno, è nato un confronto quasi giornaliero con il sottosegretario di Stato Tiziana Nisini, la quale ha preso veramente a cuore le nostre segnalazioni, ci siamo sentiti anche oggi, ne parlerà a breve con il collega Molteni, che è il sottosegretario agli interni, per cercare di risolvere questi problemi che abbiamo esposto. D'altronde il problema non è soltanto della nostra categoria, ma come abbiamo già detto anche della cittadinanza, perché in caso di sinistro stradale, a parte la prevenzione che non c'è sulle strade, sulla Siena Grosseto in particolar modo siamo preoccupati di questo perché stiamo andando verso la stagione estiva, ma in caso di sinistro stradale grave, come dicevo, si instaura una serie di reazioni a catena per il rilevo dell'incidente e per lo sgombero della sede stradale. Fino a un certo punto, fino a un certo tratto si occupa del sinistro stradale la volante di Siena, che spesso è l'unica volante sul territorio, furti, rapine e quant'altro di reati in genere, tutta la città di Siena e dopo un certo settore della strada per Grosseto se ne possono occupare la stazione dei Carabinieri di Murlo, piuttosto di Monticiano, anche loro lasciando scoperti i loro paesi dalla prevenzione dei reati in genere. La vicenda che abbiamo pubblicamente denunciato sabato scorso potrebbe anche rappresentare un punto di svolta verso la collaborazione e verso il confronto fra le varie forze di polizia. Infatti prima di organizzare questa manifestazione ho avuto un incontro con altri esponenti di altre forze di polizia, con rappresentanti di altre forze di polizia, tra cui il nuovo sindacato Carabinieri, ma anche il sindacato autonomo della polizia penitenziaria ed altre maestranze di categoria. Tutti abbiamo convenuto che questi sono problemi seri per noi, ma anche soprattutto per la cittadinanza e per l'utenza. È vero che, come diceva Silvio Gigli, sia nella trionfale mortale, ma per farla trionfare ci vogliono i mezzi sul campo e in questo momento non ci sono. 500 euro a fondo perduto per l'acquisto di tablet, pc oppure di abbonamenti per accedere a internet. Per ricevere il contributo si deve avere un'ISA inferiore a 20.000 euro. Questo aiuto per i cittadini arriva con risorse statali, è il voucher connettività. Credo che con questo messaggio si possa davvero andare incontro alle esigenze dei ragazzi, di molte famiglie che trovano difficoltà o per motivi di connessione o per motivi di materiale non adeguato a seguire la didattica a distanza. L'assessore alla connettività della Toscana, Stefano Cioffo, ha sottolineato che questo importante provvedimento ha un problema di comunicazione. Molte di questi messaggi vengono trasmessi dagli operatori e non come messaggio istituzionale. Nella confusione delle offerte economiche rischia di andare perduto invece il contenuto vero, risorse pubbliche messe a disposizione per i cittadini, anche se veicolate dagli operatori e dai gestori della telefonia. Per accedere al voucher i cittadini possono rivolgersi direttamente ad uno degli operatori accreditati. Il provvedimento iniziale è stato corretto allargandolo a possibilità di utilizzazione del voucher in tutti i comuni del territorio regionale, superando quella limitazione che lo vedeva inizialmente dedicato alle aree bianche e alle aree montane. Chiude in bellezza la CEA, la pool promozione del campionato di Serie C Gold, una vittoria netta contro Agliana che chiude alla perfezione il percorso fino a questo momento perché adesso iniziano i play-off. Coach, stasera è una buona prestazione soprattutto nella seconda parte, però adesso c'è da alzare l'asticella perché iniziano i play-off dove il risultato conta davvero. Partendo dalla partita sì, i primi due quarti non sono stati eccezionali ma comunque forse perché siamo entrati in campo con troppa voglia di fare, ogni tanto abbiamo affrettato qualche tiro e abbiamo ragionato poco, invece in difesa non abbiamo fatto malissimo nemmeno nei primi due quarti. Sicuramente nella seconda frazione di gioco siamo entrati in campo in un'altra maniera, l'abbiamo visto subito, abbiamo preso il vantaggio e ce l'abbiamo fatta a portare a casa la partita. Prima di pensare al play-off però oggi si chiude il secondo capitolo e credo che sia giusto rendere merito a questi ragazzi perché la seconda posizione non era pronosticata da molti, insomma che la Virtus arrivasse in questa posizione, è una cosa che ci siamo guadagnati partita dopo partita. Se si pensa dalla prima partita a San Giovanni Valdano oggi è stata una crescita netta e quindi credo che sia importante rendere merito ai ragazzi e ce l'hanno sempre messa tutta dal primo giorno. Un secondo posto isperato che però adesso apre degli scenari importanti, arriva il play-off al meglio delle cinque partite con Castelfiorentino, una serie che si inizierà domenica però non sarà sicuramente facile perché Castelfiorentino è squadra imprevedibile con talento offensivo soprattutto sugli esterni ma anche nei lunghi e quindi una squadra da affrontare con le molle. Assolutamente è una squadra pericolosissima come avevo già detto, si è visto perché ci abbiamo giocato due partite e al di là delle due vittorie sono state due vittorie molto sofferte e quindi è una squadra molto imprevedibile, una squadra che non muore mai, una squadra che quando è sotto è il momento più pericoloso perché ritornano sempre in partita e quindi sarà una partita molto difficile. Posso dire che le altre due partite con Castelfiorentino le abbiamo preparate in un giorno solo e ora abbiamo una settimana intera per prepararle, però ci penseremo da martedì perché stasera fortunatamente possiamo festeggiare una normale scena e l'unica cosa è mancata a questi ragazzi perché loro dopo le partite chiedono solo di festeggiare una semplice scena e stasera lo possono fare. Cinque partite ravvicinate, ovvero tre sicuramente, poi quarta e quinta partita si gioca tutto in due settimane, ci sarà da gestire oltre all'aspetto tattico anche quello fisico? Ci sarà da gestirlo da questa settimana perché forse eravamo anche un po' stanchi oggi all'inizio quindi sarà molto importante il lavoro del preparatore, dei miei assistenti che ringrazio fino a qui per il lavoro svolto e comunque di tutta la società e di tutti quelli che ci sono stati vicino fino a ora che sono molto importanti per noi. Una buona serata, iniziamo dalla situazione sinottica prevista per domani sul Mediterraneo centrale e orientale continua a fluire aria un po' più fresca e secca, determina locali condizioni di instabilità. Nei prossimi giorni questo flusso verrà sostituito da correnti più occidentali, più calde. Ecco la previsione intanto per domani, prevalenti condizioni cielo sereno, poco nuvoloso in mattinata, poi nel pomeriggio qualche addensamento solo sui rilievi, temperature massime in aumento fino a 26-28 gradi. Giornata del 2 giugno un pochino più incerta, un po' più nuvolosità soprattutto sui settori occidentali già dalla mattina, poi nel pomeriggio prevalenti condizioni di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso sui settori più meridionali ma bassa probabilità di precipitazioni, temperature senza variazioni di rilievo, eventi che tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali. Bene è tutto, vi auguro una buona serata.